Benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui a casa dei miei genitori per mostrarti un regalo che hanno fatto a me e a mio marito per il nostro anniversario di nozze, infatti l'11 luglio abbiamo fatto ben 5 anni di matrimonio e ci hanno regalato le pentole, grazie comunque, già li ringrazio anche attraverso il punto, perché tu devi sapere che le mie pentole, magari ti lascio l'immagine qui di lato erano diventate, vabbè avevano anche 5 anni quindi è da capire, il fondo si era tutto sfossato quindi non potevo più tenerlo, riassunto della situazione andiamo a vedere quello che ho scelto perché l'ho scelto io però mia madre me l'ha regalata, è pesantissimo ci devi capire giro, aiuto mi sto ammazzando, aiuto, i denti, 8 pezzi, manici in silicone, si possono mettere anche in forno ma io non mi arrischio perché c'è il vetro, preferisco di no, è un rivestimento senti qui c'è scritto Rupa, di aderente, 5 strati, è un'estrema durezza della pentola, maggiore resistenza all'abrasione, elevata antiaderenza, lunga durata della pentola, coltura perfetta e salutare, la marca è Casanova, prezzo 77 euro quindi manco 80 euro e poi sono fatti in pietra, scusami se sono sparita ovviamente ma c'è lo scatolone talmente immenso che ti dovevo dire tutto nel dettaglio e meglio di così non potevo farlo, quindi andiamo a vedere ogni singola pentola, mia madre me la sta spacchettando perché sono tutte ben incelopanate, questa è la prima, il manico è così e il fondo è in acciaio, Casanova, comunque io già te l'avevo accennato su Ix in the Wonderland, il mio secondo canale che avrei dovuto cambiare le pentole, e questo è il coperchio, io però ti faccio vedere le dimensioni, i coperchi non te li faccio vedere più perché sono tutti uguali e ti faccio vedere le dimensioni delle pentole, questa con cui ci farò la guerra perché qui ci preparo minestroni, vellutate e di tutto e di più, questa padella, poi ti scrivo ovviamente il diametro di ognuna, comunque le potrai acquistare se vorrai ovviamente, questi rivenditori Casanova, questa che è fantastica, guarda com'è grande, bella veramente, cioè è capientissima, ed infine questa, guarda che meraviglia, questa invece non è per me, l'ha comprata mia madre per sé, mi ha fatto anche la rima, casa nuova sempre, i giganti perché a mia madre serviva una pentola di quelle belle, capienti e grandi, questa qui l'ha pagata 29,90 euro, c'è scritto in cucina ogni occasione, è una grande occasione, ma non è una ripetizione, ma bella comunque, copecchia in vetro temperato, con foro che permette la fuoriuscita del vapore, cottura salutare, rivestimento antiaderente, permette una cucina leggera e salutare, senza aggiunta di grassi, in più copri i manici in silicone amovibili, per un facile utilizzo, in forno senza scottature, intanto è pronta anche la torta, di cui vedrai la ricetta sul canale, tre stati di rivestimento antiaderente, resistente all'ebrosione, all'utilizzo quotidiano, guarda che ampia che è, 32 centimetri, molto molto profonda, mia madre ha detto che gli serve per il viso, le famiglie si hanno aumentati e quindi abbiamo bisogno di più spazio anche nelle pentole, ecco, il coperchio è questo, con lo scritto dove sei? iscritto, casa nuova. Adesso ti faccio una panoramica generale di tutte le pentole e scrivimi nel tuo commento se ti è piaciuto il video, se magari ti è stato utile per un possibile acquisto, iscriviti e condividilo sui tuoi social. Grazie a tutti. Grazie a tutti.